Nando Marino e Gino Bagnato, il presidente, il vicepresidente, due colonne con pochi ma buoni soci rimasti di questa società che intanto è impegnata nell'organizzazione del Memorial Pentassuglia, una data fondamentale nella storia di questo club. Sì, fondamentale perché per la prima volta sarà con quattro squadre e con quattro squadre importanti, Milano, Sassari, Caserta e Brindisi. Quindi siamo convinti che riusciremo ad offrire un bello spettacolo, nonostante sia sempre precampionato, questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Però la prima uscita della squadra che coincide ormai col Memorial Pentassuglia è un appuntamento che volevamo rinnovare, lo volevamo rinnovare per onorare al massimo la figura e tutto ciò che ha fatto Elio nella sua carriera cestistica, organizzando e dedicandogli un torneo importante. Una doppia responsabilità personale, la New Basket e la BMW con l'impegno diretto in questo torneo. Diciamo che il motivo è buono per perdere qualche chilo perché mi stanno facendo lavorare dalla mattina alla sera su tutti e due i fronti. Comunque quando ho proposto questo a BMW sono rimasti favorevolmente colpiti perché era il modo di poter premiare quattro realtà professionali con le quali loro lavorano molto bene. E quindi Milano con la squadra della quale sono il secondo sponsor e poi Milano è la città importante per l'antonomasia, per il mercato BMW. E poi Sassari, Caserta e Brindisi che, lo dicono loro, sono tre realtà importanti nel mondo BMW. Quindi andiamo avanti e speriamo di riuscire a confezionare un prodotto importante affinché il pubblico si possa divertire ed è per questo che abbiamo pensato anche di inserire la gara del tiro da tre punti. Io non so se Giro Bagnato voglia a sua volta perdere qualche chilo. Di certo è sempre pronto approfondire le energie economiche per questa società, come abbiamo sentito in conferenza stampa. Certo, qualche chilo lo stiamo perdendo, lo stiamo perdendo. Non dalla pancia, ma pensi di dalla... Al conto in banca. Al conto in banca. Comunque, questa è una storia... Con piacere immagino. Certo, ci stiamo divertendo abbastanza e mi auguro pure che i deposi Brindisi si stanno divertendo ci stanno dando pure una mano facendo quelli sacrifici per loro, con i laboramenti, quello che stanno... perché le prime sono loro che sono i primi attori. Il secondo, questo, non sia come ho detto prima, siamo sul terzo anno. Il primo anno abbiamo fatto due obiettivi abbastanza importanti. Coppa e Serie A. Il secondo, abbiamo tenuto la Serie A, abbiamo tenuto... E noi, questi... Ne ci auguriamo. Quest'anno faremo qualcosa in più. Partendo, partendo con due colossi, con due colossi... Cioè, diciamo tre, ma con due colossi importanti... Dove si dice che per loro è il massacampionato. Noi teniamo un giocatore abbastanza nuovo. Sono otto su dieci tutti i giocatori nuovi. Che via il Bucchi sta lavorando abbastanza bene per mettere le ansie, per farli conoscere. E questo è già un discorso. Già vedremo sabato a Matera... Quanto vale questo? Perché io c'esco poco per lo sabato e domenica. Mi sto pagando un weekend fuori città per stare pure vicino a loro. Ne ritroverete per Di Chizzi. Sì, un augurio a Giovanni affinché possa arrivare in Lega 1 l'anno prossimo. Noi di esserci ancora e lui di arrivare per rinnovare delle belle sfide come quella che avremo sabato conto di loro. Un saluto a tutti. Visto che siamo in termini di sponsorizzazione automobilistica, dico che a tutti i nostri tifosi allacciamo le cinture, e iniziamo questo campionato che ci auguriamo possa riservarci delle soddisfazioni più importanti. Vi dico solo una cosa, che non c'è nessun atleta che ha firmato per il premio Salvezza. Quindi, salvezza immediata e cerchiamo di sognare, perché vogliamo andare avanti e vogliamo crescere tutti quanti insieme.